Anila Grisai è morta a 26 anni durante il suo turno di lavoro, rimanendo incastrata all'altezza del capo in un macchinario che le avrebbe schiacciato le vertebre cervicali. Viveva con la famiglia Amiane in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto a Pieve di Soligo, verso le 16, all'interno della Boccon, azienda che dal 1987 commercia prodotti gastronomici surgelati. Sono stati i colleghi ad avvertire i soccorsi. Nessuno ha pensato di avvisare i familiari prima che lo facesse il sindaco Stefano Soldan verso le 18, due ore più tardi. Da qui le tensioni all'esterno dello stabile tra le forze dell'ordine e la folta comunità di albanesi di cui Anila faceva parte. I familiari stretti lo hanno saputo dai mezzi di informazione che erano stati avvertiti prima di loro. Soltanto verso le 20 e 30 l'incontro con alcuni rappresentanti dell'azienda e nuove discussioni animate attorno a una tragedia difficile da accettare e da comprendere. I carabinieri che hanno messo sotto sequestro parte dello stabilimento dovranno accertare le cause della morte di Anila. Il macchinario che ha provocato l'incidente sarebbe stato acquisito da poco ma intanto scattano le polemiche perché Rachele Scarpa, giovane deputata trevigiana coetanea della vittima, scrive che l'azienda era già stata sanzionata dallo Spisal che ora indaga sull'accaduto. Per il primo cittadino di Pieve di Soligo l'azienda aveva dotazioni di sicurezza all'avanguardia in quella sede nuova di Zecca inaugurata soltanto nel 2019. Sarà la procura di Treviso ad aprire un fascicolo di inchiesta.